Le 13 e 13 del 10 febbraio del 2024 ci siamo a piazza Gramsci vicino al campetto c'è tutto guarda che trossatura la palestra gratis vedete anche qui anche questa e poi abbiamo anche questa qui la mappa 2 non avrei visto mai una cosa simile anche questo andiamo un po di qua bene c'è ogni comporto ogni attrezzatura all'aperto non ci ho fatto mai cosa è la testa e e e e e